76 76 76 Giving reasons to Giustificare qualcosa 2 Giustificare qualcosa 2 Why didn't you come? Perché non sei venuto? Perché non sei venuto? I was ill Ero malato Ero malato I didn't come because I was ill Non sono venuto perché ero malato Non sono venuto perché ero malato Why didn't she come? Perché lei non è venuta? Perché lei non è venuta? She was tired Era stanca Era stanca She didn't come because she was tired Lei non è venuta perché era stanca Lei non è venuta perché era stanca Why didn't he come? Why didn't he come? Perché non è venuto? Perché non è venuto? He wasn't interested Non ne aveva voglia Non ne aveva voglia Non è venuto perché non ne aveva voglia Non è venuto perché non ne aveva voglia Why didn't you come? Perché non siete venuti? Perché non siete venuti? Our car is damaged La nostra macchina è rotta La nostra macchina è rotta We didn't come because our car is damaged Non siamo venuti perché la nostra macchina è rotta Non siamo venuti perché la nostra macchina è rotta Why didn't the people come? Perché non sono venuti? Perché non sono venuti? They missed the train Hanno perso il treno Hanno perso il treno They didn't come because they missed the train Non sono venuti perché hanno perso il treno Non sono venuti perché hanno perso il treno Why didn't you come? Perché non sei venuto? Perché non sei venuto? I was not allowed to Non potevo Non potevo I didn't come because I was not allowed to Non sono venuto perché non potevo Non sono venuto perché non potevo Non potevo Non potevo Grazie a tutti